Buonasera a tutti, avrei bisogno di due rappresentanti delle rispettive bande e chiamerei il segretario Ambima della regione Piemonte per la consegna delle due tagli. Buonasera a tutti e ringrazio Romeo per aver intanto aderito all'iniziativa che Ambima Piemonte suggerisce di fare le province Ambima. E' alla guida di una doppia provincia a Stia Alessandria, tra l'altro abbiamo un ex vicino che è Rinaldi che forse è stato uno dei primi che ha cominciato questa avventura e poi man mano le cose si sono susseguite. Mi ha fatto veramente piacere essere invitato questa sera a portare il saluto dell'Ambima regionale e anche da parte del Presidente Zeudano che ieri sera doveva esserci ma ha avuto un problema familiare per cui non ha potuto venire e oggi purtroppo il problema persiste per cui ringraziamo comunque Romeo per quanto si sta dando da fare a livello Ambima locale ma anche a livello Ambima regionale e speriamo di continuare in questa cosa e di fare sempre meglio e sempre di più logicamente per le province. Io è la prima volta che ci vediamo con il maestro della banda di La Mora, con Rinaldi Nobri, ci siamo già conosciuti e vi faccio i complimenti anche per il programma che avete presentato, fresco e frizzante, più giusto per una sera d'estate o come questa. Allora chiamerei il Vice Presidente a consigliare la moda. Grazie. 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 Grazie per ringraziare anche per ringraziare tutti voi che siete qua presenti e comunque l'amministrazione comunale che ci concede sempre questa splendida piazza. Grazie a tutti e attendiamo ancora tre minuti che si piazza la seconda banda. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.